americana. Faceva questa cosa qui e oggi questa cosa qui la fanno l'ONG, vuol dire che lo Stato italiano ha delegato un'ONG. La maggior parte delle navi di queste ONG non sono navi che battono bandiera italiana, ma sono ONG internazionali. La domanda che io faccio a queste ONG è, ma perché tu che batti bandiera americana? Perché sei un ONG americano? Perché sei spagnola? Perché sei inglese? Tutti, tutti i migranti che salvi me li porti in Italia e non li porti a Malta o non li porti altrove? Punto di domanda. Visto che la notizia Salvini l'abbiamo data noi dal Senato, è giusto fare una precisazione. Salvini ha detto che sul tavolo del Presidente del Consiglio, a nostro parere, dalle notizie che abbiamo noi, c'è un dossier dei servizi segreti. Stucchi ha detto che non c'è un dossier dei servizi segreti italiani. Noi abbiamo chiesto in conferenza del Capigruppo, in Senato, venga Gentiloni a dirci che non c'è nessun dossier sul mio tavolo di nessun servizio segreti mondiale. Il Partito Democratico mi ha detto che no, Gentiloni non viene in aula a dire questa cosa. Quindi Gianmarco Centinaio Gianmarco Centinaio ha il dubbio che ci siano dei dossier di altri servizi segreti europei sul tavolo del Presidente del Consiglio.